Comune di Battipaglia ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloqui ai fini dell'inserimento presso la struttura dell'avvocatura comunale dei tre praticanti avvocati per un periodo massimo di 12 mesi di tirocinio forense. Nella nota pubblicata sull'albo comunale se vince avviso selezione pubblica per il reclutamento dei tre praticanti avvocati. Ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloqui ai fini dell'inserimento presso la struttura dell'avvocatura comunale di tre praticanti avvocati per un periodo massimo di 12 mesi di tirocinio Forense, scadenza 30 gennaio 2019.